Ciao a tutti ragazzi, sono Alex di MKKS of Team e rieccomi qui, tornato dopo miliardi di mesi a operare su questo canale che ormai sembrava morto ma non lo è quindi, oggi saremo qui per analizzare un'altra pistola qualche mese fa ho caricato la video recensione della beretta CO2 della KG Works che ho venduto come ho detto e quindi oggi siamo qui per fare la video recensione di questa bellissima beretta B92 della Tokyo Marui allora, iniziamo a parlare della pistola la pistola è completamente in ABS se non per il carrello quindi tutto il resto è in ABS e il caricatore comunque, tutto in ABS quindi molto leggera si aggira intorno ai 900-850 grammi quindi, insomma, un peso sostenibile da tutti i giocatori softair anche i più piccoli è una pistola che ha circa 5-6 anni quindi un'ottima pistola perché è della Tokyo Marui comprata circa 5-6 anni fa al prezzo di 160 euro quindi un grande prezzo ma un grande prodotto allo stesso tempo presenta loghi originali qua in questo... su questo lato troverete il Tokyo Marui Made in Japan e il suo numero di serie perché questa pistola ha il numero di serie specifico mentre dall'altra parte trovate tutti i loghi originali riportati anche sulla pistola la controparte reale e troverete il suo numero di serie che è 29.598 quindi trovate nelle scritte scusate la M9 Military USA e sulle guancette trovate come sempre un altro logo scritto sopra USA Military non capisco il motivo di USA perché la pistola è italiana e l'opera scritta ci esercito italiano non lo so perché comunque è anche adottata dalla polizia italiana vabbè sicura standard beretta in questo momento è insicura tirando su questo levetta in colpo singolo sicura e colpo singolo non ha la raffica perché comunque è una pistola a gas e non è la B92 SF quella scarrellante a raffica o quella è pienosa ma a me non piace la pistola deve essere colpo singolo al massimo la M93 che è a raffica ma non di più comunque è un modello scarrellante della pistola quindi ogni volta che sparerete la pistola scarrellerà automaticamente e la versione a gas della pistola come vedete si ricarica tramite questa valvola qua sotto e il caricatore automaticamente metterà il gas ogni volta per ogni pallino dentro la pistola il caricatore bifilare come vedete scusa ok come vedete bifilare da 22 colpi varie standard questa pistola il mio amico la vende perché ha bisogno di soldi perché non la usa più e poi perché ha un piccolo problemuccio al caricatore nel senso che non tiene molto bene il gas cioè spara 5-6 pallini e poi finisce il gas quando teoricamente lo deve farvi 2-3 caricatori no 2 caricatori la vende per il prezzo brutti cioè 55 euro è praticamente regalata questa pistola per chi è interessato mi contatti sono in zona Torino però perché vorrebbe consegnarvi la mano direttamente perché almeno voi siete sicuri del prodotto e lui è sicuro di prendersi i soldi capito comunque adesso procediamo al smontaggio di questa pistola per vedere un po' com'è internamente il loop up eccetera 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 a dopo eccomi tornato scusate mi è arrivata mia madre quindi allora per smontare la pistola bisognerà premere sto perno qua questo e allo stesso tempo girare questa levetta qua che vedete questa qua girarla in questo momento così in questo modo la pistola ha fatto uno scatto in avanti e voi basta che tirerete il carrello all'avanti allora la parte inferiore della pistola pesa veramente poco non so se avete in mente le granate ecco il lancio granate da softair le granate che ci ficate dentro ecco più o meno il peso è quello quindi 100-200-350 grammi lo massimo e niente è presente solamente il vano per metterci caricatore il cane e alcuni qualche ingranaggio che al momento è buio ma non si vedono molto bene e presenta questo la parte interessante è sopra come vedete presenta una molla per permettere lo scarellamento qua sotto l'op-up e lì l'ingresso e la camera gas della pistola quindi adesso niente questa è la parte sopra e la rimontiamo per pen come vedete basta farlo scivolare all'interno del suo carrello con la mano mi viene difficile quindi due secondi nel rimonto e torniamo ci tornate allora come vista era la video recensione e niente se siete interessati all'acquisto contattatemi tramite messaggio privato il prezzo è di 55 euro scambia solo in zona Torino massimo sì solo in zona Torino ecco quindi niente spero abbiate gradito la video recensione a brevi altri video action di Softair farò la video recensione del bar che è in quel grandissimo scatolone e niente questo era tutto un saluto da Alex ci vediamo al prossimo video ciao